Un errore clamoroso nell'ultima amichevole del Napoli contro il Girona, all'inizio di questo mese, ha portato Alex Meret a perdere il posto da titolare. Antonio Conte avrebbe chiesto alla dirigenza del Napoli di cercare un nuovo portiere. L'allenatore ha menzionato Wojciech Szczesny come alternativa ad Alex Meret. Szczesny è tra i giocatori che potrebbero lasciare la Juventus. Il polacco non dovrebbe essere il titolare con Motta e, a causa del suo alto stipendio, la Juventus cerca di venderlo. Confesso di non essere convinto che Di Gregorio possa essere il titolare. Credo che un grande club come la Juventus abbia bisogno di un portiere con più esperienza. Tornando all'interesse del Napoli per Szczesny, c'è un fattore che potrebbe impedire che l'affare si concretizzi, l'alto stipendio del portiere. Rimani aggiornato, poiché a qualsiasi momento torneremo con ulteriori novità. Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche.